Ciao ragazzi, qui Gabby e benvenuti al simulatore di piccioni! Comunque questo gioco sembra assurdamente divertente quindi per un giorno il vostro gabbiano diventerà un piccione E il lavoro dei piccioni sappiamo bene qual è, quello di rubare cibo, schittare e rovinare le partite del calcio, guardate Ma che nostra di palla avete qua? Posso giocare a calcio con voi? Ehi questa è la mia palla! Aia! Aia! Non sono io la palla! Non sono io la palla! Credo che mi abbiano confuso con una palla! Posso vomitarvi in testa? Li ho vomitati in testa! Non sai come cagare mi sta dicendo, come cago? Non ho mangiato ragazzi, non posso cagare se non ho mangiato, dobbiamo trovare del cibo! Ok, devo trovare cibo vicino ai cestini! Ok ragazzi, attiriamo qui vicino così possiamo prenderci un po' di cibo! Ma vieni, guarda che roba! Posso mangiare! Becca, sbecca, sbecca, sbecca! Sbecca che tiri, sbecca! Dammi cibo! E ora ragazzi, ora che ho mangiato posso anche cagare in testa! Ho tirato una bombazza ragazzi! Mi attacco e faccio gol! Spam! Gli ho vomitato in testa! Questo è per prima, maledetti! Ogni cibo ha un effetto diverso! Eh sì, noi abbiamo anche l'obiettivo di mangiare cibo piccante! Vediamo se trovo la bancarella di Sancio il Messicano! Ok, credo di averla vista! Forse lui ha un po' di cilli piccante! Ehi, 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 qua ci deve essere il piccante infermi... Oh, gliel'ho abbastata! Cosa succede se vado sopra una macchina? Posso? Ah, no! Prendo d'estate! Va male! Va male da... Aiuto! Oh, oh! Ho problemi motori! Mia mamma non mi ha fatto bene! A proposito, scaricatevi anche il mio altro gioco! I am a bread! È degli stessi creatori! Ora andiamo qua ragazzi! Questo è mio! Questo è mio! Questo è mio! Questo è mio! È tutto mio! Tutto mio! Tutto mio! Tutto mio! Tutto mio! Magna, 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 magna e diventa grosso! Come diceva mia nonna! Magna, magna, magna e diventa grosso! Sì, giocate a calcio! Non sospettano niente! Ma in tutto questo! Avete mai visto un piccione che cavalca una pecora? Vai Giusepina! Andiamo a prenderli! Ripipipipi! Cagar! Cagar tutto il D! Cagar tutto il D! Puntare, mirare fuoco! Gli ho tirato una bombazza incredibile! Questa è velenosa! Questa è velenosa! Questa è ma puzza! Vai, 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 vai! Oh! Mamma mia, mannaggia all'albero! Uno è morto! Ma cosa avevo? L'avia aria dentro? Vai, 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 vai! Nessuno si sta accorgendo? No! Ho preso il bastone! Ragazzi, ok! L'obiettivo è di farci il nido ora! Ce l'ho fatta! C'ho il bastone! C'ho il bastone! Dove possiamo farci il nido? Qua lo posso fare! Ok, ok, ok! Sì! Devo prendere tutti i bastoni? Così possiamo farci un super meganigdo e crescere altri bambini che verranno con me! Questa è la parte più bella e divertente del mio lavoro! La costruzione! Ho imparato da Minecraft! Ok, ragazzi, stiamo continuando molto bene a prendere i bastoncini. Ce ne servono pochi altri. Avremo creato un regno. Intanto atterro qua e mangio un altro po'. Poi andrò a cagare sulla testa di qualche altro stupido umano. Quindi, aia! Eh, l'atterraggio è quello che mi frega sempre! Zumpete, zumpete, zumpete! Eat, 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 like there is no tomorrow! Eat, 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 like there is no tomorrow! Vai così! Questo è l'ultimo, credo! Sì! L'ho costruito! Ho buildato un nest! Ragazzi, qua possiamo atterrare casa nostra ora! Così possiamo cagare uova! Vai così! Ho messo i miei piccoli! Ok, ora li devo tenere al sicuro! Dai, dai! Tra un po' cresceranno i miei bambini! Perfetto! Piccolini, piccolini! Non manca neanche tanto! E poi verranno con me a far casino! Che gangsta che siamo noi piccioni! Che gangsta! Eccoli qua! Devo vomitarglielo in faccia ai miei figli! Così funziona! Ah, la buona e vecchia madre natura! Aspetta! Oh, oh! Can I vomit on you? Oh, sì! Ecco con il mio bellissimo vomito! Gli sto dando cibo! Oh! Sono quasi morto per darvi tutto questo vomito di qualità! Mi consenta! Glielo rubo un secondo! Lui non si è accorto di niente! Fermi, fermi tutti! Fermi tutti! Fermi tutti! Fermi! Dov'è il donut? Dov'è il donut? Perché mi sparisce la roba? Perché? Perché muoio? Perché mi sparisce la roba? Io faccio una fatica immane per dargli tutto e muoio sempre! Caga sull'umano! Caga sull'umano! Ti potrà sembrare strano, ma caga sull'umano! Ok, ora facciamo le cose fatte bene, dai! Un bel vomitazzo! Oh! Guardalo! Tutto colorato il mio nido! Di tutti i colori! Ok? E ora il cibo che abbiamo qua! Me lo pappo anche questo! Così abbiamo altra scorta! Vai così! Andiamo andando più che bene! Ora vomiteremo ancora sopra i nostri bambini! Che dobbiamo infestarlo sto parco! Dobbiamo infestarlo! Ok, ragazzi! Sta andando molto bene questa situazione! Sono quasi morto di fame, però! Quindi, senza troppi complimenti alla mamma! Prendo un altro donut! Ok! Lo lasciamo qui! Perfetto! E ce lo mangiamo! Ah, il cioccolato è il mio preferito! Ottimo! Ho mangiato cibo appiccicoso! Cosa vuol dire che farò la cacca appiccicosa? Uh! Allora, c'è un obiettivo di cagare sull'umano! Cagliamo sul portiere! Sì! L'ho ucciso! Bene! Ahà! Guardate, è diventato di un... No! Ce l'ho attaccato! Ce l'ho attaccato! Non ci credo! No, ragazzi! Si è attaccato perché ho mangiato cibo appiccicoso! Bambini! Ho trovato del cibo buono! Bambini! I miei bambini sono un pozzo senza fondo! Signor portiere! Ora faccio il casino! Ora lo tiro su questi altri umani! Guarda! Adesso se butto l'umano in mezzo alla strada! Se l'ho buttata sulla macchina! Queste macchine sono ferme! Perché c'è l'umano! Quindi posso distruggerle! Mamma mia che botta! Lascia che io sia il tuo vomitazzo più grande! Dai, 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 dai! Che siete al massimo! Sì! Ho infestato il parco! Guardate quanti piccioni! Oh! Questo posto non sarà più lo stesso! Combagniamo noi! Stanno cagando dappertutto! Grandi figli miei! Figli miei! Grandissimi! Abbiamo infestato tutto! Ora mi ruba tutto! Panino mio! Ah! Posso anche farmi vari nidi in giro! Vedete? Non c'è solo quel punto! Possiamo anche conquistare... Anche la fabbrica, vedi? Ogni punto bisogna conquistare! Il mio nido è sotto attacco! Che vuol dire? No! Quel tizio! Quel tizio vuole distruggere il mio nido! Pezzo di erba! L'ho ucciso! Ragazzi, sarebbe da fargli saltare questa macchina! Cos'è? Contro noi piccioni! Contro i piccioni! Ribellatevi, figli miei! Posso rubargli l'arma? Sarebbe! Sarebbe da rubargli l'angiafiamme! No, posso portare il suo corpo però! Lo porterò in giro! Che sia di ammonito! Per tutti quelli che vogliono venire qui con l'angiafiamme! Che sia di ammonito! Te lo lancio addosso al collega! Guarda collega! Cosa abbiamo fatto? Allora aspetta, devo mangiare, altrimenti crepo! Mangia che ti rimangia! Vai! Ok, l'ho ucciso! L'ho ucciso anche questo! Dobbiamo trovare altri nidi, ragazzi! Cioè adesso veramente dobbiamo metterci a costruire! Se vogliamo fare le cose fatte bene... Dobbiamo fare le cose fatte bene! Eccoli qua! I miei dolci bastoni! La malta! Con cui noi uccelli costruiamo il nostro nido! È intelligente! Voi avete case grosse, ingombranti! Noi un piccolo nido! È proprio lì! Che mi fa male! È in alto! Difficile da raggiungere! Ma come una spina nel fianco a voi umani! È la nostra vendetta per aver inquinato con le vostre macchine! Miam 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 miam! Eccoli qua! Eccoli qua! Perfetto! Ho preso tutto! Ho preso! Vai così! Easy! E ora si infesta pure di qua! Si fa festa e si infesta! Teniamo al caldo i piccolini! Al caldo i piccolini! Che stanno bene e poi li vomito in faccia! Ora creerò un altro nido qua perché ho già mangiato abbastanza! Vai! Abbiamo infestato anche la factory! Avevo già tutto il cibo in corpo! Vai! Oh no! Il mio altro nido è sotto attacco! Ok! Ok! Un attimo che mangio qua! No! Non tirami un... Ecco mi ha tirato una botta! Lurido! Lurido! Porca vacca! Mi rompono! Ok! Ok ragazzi! Ho la super pista! Ho la super pista! No! Non lo brucerai! What? Guarda! L'ho preso! Guardate umani! Questo mondo è nostro! Dateci tutto il vostro cibo! E magari non prenderemo più umani nostaggio! Ho bisogno di più bastoni! Santa mano! Questo gioco laga come la cacca d'uccello! Cioè veramente sta... Oh! Ok! Un altro bastone! Perfetto! Così potrò fare un altro nido! In 3, 2, 1! Eccolo qua! Manca solo un bastone! Vai così! Oh no! Mi stanno di nuovo bruciando il nido! Oh no! Quando finiranno? Cioè in teoria io potrei distruggergli il camion! Perché stanno... Sempre arrivando! Ah! Ti cago in faccia! Nabone! Cioè guarda te! Sti pezzi di sterco! Ok! Vai! 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 Mangia! Non darmi una botta! Mamma mia me la danno sempre all'ultimo! Aspetta 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 che li faccio saltare in aria! Boom! Ho distrutto la macchina! Gli ho distrutto il camion! Dai 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 dai! Mangiate tutto! Vai! Ho infestato il parco! Ora mi manca solo un luogo perché mi hanno distrutto un nido! Quindi devo riconquistare la mia altra zona! Dai 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 dai! Ho vinto! Sìììì! Ho dato da mangiare a tutti i miei piccioni! Congratulazioni! Ho infestato la città! Cuckoo! Sììì! Guardateli! Che bravi! Abbiamo vinto ragazzi! I piccioni hanno conquistato il mondo! Ma lì nel buio dell'universo... C'è qualcuno che vuole vendicarsi! di Garzi. Muahaha!